I primi atti della sua amministrazione sindaco? Alle esigenze dei turisti, alle esigenze dei nostri ospiti, quindi c'è stata grande difficoltà e soprattutto si vede dalle facce, abbiamo tutti delle facce stravolte perché effettivamente abbiamo i segni addosso di quello che è stato questo inizio di amministrazione. L'amministrazione è partita dal riorganizzare gli uffici comunali, quindi abbiamo cercato di riportare a casa quelli che erano dei professionisti locali che avevano lavorato per il comune e questo lo stiamo facendo sia per gli incarichi ai professionisti sia per gli incarichi alle ditte. Pensiamo che chi nasce da un territorio sia più legato al territorio e ne sia legato a prescindere da quello che possa essere un interesse economico al guadagno, quindi questa è stata la linea che ci ha dato lo step di partenza. Dopodiché abbiamo cercato di focalizzare i nostri interventi su quelle che erano le emergenze, quindi abbiamo fatto delle economie di spesa per trovare i soldi per aggiustare l'edificio scolastico comunale che era crollato, ahimè, ad aprile, quindi poco prima delle lezioni. Adesso ci verrà consegnato il 15 ottobre per cui il disagio per i nostri figli che vanno alla scuola di Scario sarà limitato soltanto a un mese ed era il massimo che potevamo fare perché prima abbiamo dovuto, cioè noi che siamo arrivati non abbiamo trovato nulla, quindi abbiamo dovuto prima analizzare le cause, poi la situazione dell'immobile, quindi come era dopo le cause e poi prendere i provvedimenti, quindi abbiamo consegnato i lavori, poi trovare i soldi, che non è una cosa che era semplice. Poi siamo intervenuti sulla tragara, abbiamo ridato la fruibilità di una spiaggia che era un po' ridotta a uno stato di macerie.